Devi da sapere che nel Vangelo di Matteo, no, non Matteo quello del piano di sotto, è San Matteo che ha scritto uno dei quattro Vangeli, Gesù gli dice a Pietro, e no, no Pietro è il pizzettaro all'angolo, oh comunque con te se sa quando si comincia e non se sa quando si finisce, con ogni cosa tocca spiegattela, vabbè. Insomma, Matteo, no, cioè scusa, me stai a fa' confonne, Gesù gli dice a Pietro, tu sei Pietro, che non era il nome suo ma un soprannome come oggi sarebbe di Sergio, forse perché era una persona affidabile o forse perché era una capa tosta, e su sta pietra io ci fanno a chiesa mia, che no, a ridaglie, non era un palazzinaro, si parla in senso figurato, e poi gli fa, te tosti i chiavi e bada che quello che ci apri e ci chiudi vale in cielo come in terra, vabbè parole ne sono un po' diverse, ma senza è quello. Che poi, tocca a vede se è davvero Gesù che dice sta cosa, o non è Matteo, sì, lo so, prima ti ho detto Gesù, ma intendevo nella storia Gesù che parla, però è Matteo che scrive, te stai a sconfonne? E non sei er solo, perché come te dicevo, gli studiosi non so poco tutti d'accordo, e c'è chi dice che ste parole è Matteo che mette in bocca Gesù, perché quando Matteo scrive, gli cristiani erano già diventati, non dico una chiesa, ma certo una cosa diversa dall'ebrei, mentre invece tocca a vede se Gesù ce pensava per niente, affonna a chiesa e fa papi e dà chiavi. Ad ogni modo, sta pittura si chiama appunto A consegna dei chiavi, che non è perché San Pietro si era comprato a macchina, ma so i chiavi di este episodio del Vangelo, che so simboliche e rappresentano l'autorità e la responsabilità sua a chiesa. Che se via Pietro, che fa a chiesa cattolica, verrebbe a di il primo papa, e dopo di lui ste chiavi si esotramannate di papa in papa fino a oggi, sempre che appunto. Ma sta fresco che il Perugino l'ha commissionato proprio un papa, cioè papa Sisto IV, che è quello da Cappella Sistina, che infatti il suo dipinto sta lì. E lui dei dubbi non ce n'aveva, che ste chiavi gli aspettavano dei diritto, onori e oneri compresi. E ste chiavi so due, una d'oro e una d'argento, perché all'epoca il papa era capo duvorte, religioso e politico. E infatti sullo sfondo c'è una chiesa, e poi c'è l'arco di Costantino, che Costantino alle cristiane gli diede a libertà, e il papa gliene è grato. E c'è stanno una bensì due volte, a ribadì che il papa non era soltanto papa e prede, ma pure imperatore assieme. Come a di, dio ma ha date e guai a chi me tocca.